e benvenuti in questo nuovo video di oggi faremo reaction più vuoti alla partita fiorentina milan finita e come ben sapete e 3 a 2 per il milan partita molto sofferta però questo dimostra che il milan è una grande squadra e io ho sempre detto è una grande squadra secondo me possiamo ancora adottare per lo scudetto ma è quasi impossibile perché l'inter quando recupererà la sfida col sassuolo vincerà sicuramente perché però l'inter c'è un tabù c'è un tabù contro il sassuolo che negli ultimi anni non ha mai vinto 2017 sconfitta 2018 sconfitta in casa intendo 2019 pareggio 2020 pareggio ecco secondo me la partita la partita è stata giocata molto bene da tutte e due le squadre un poco di più dal milan che che per il milan segnano pulgar e no pulgar quella fiorentina allora per la fiorentina pulgar e pulgar liberi per il milan e ibra e brain diaz e c'è la moglu che fa 3 a 2 e porta e fa vincere il il milan ecco perché secondo me e si può ancora adottare per questo scudetto ma è praticamente impossibile perché l'inter secondo me è nettamente più forte di noi cioè possiamo anche superarli però secondo me come rosa l'inter uno la più completa secondo me si dice la più da più forte ecco in questo momento lukaku secondo me è più forte di iber sinceramente barella è più forte di cassi devrai e kier non saprei come rispondere e niente e adesso andiamo con i voti della fiorentina dragonski sei pezzella cinque e mezzo milenkovic cinque e mezzo quarta 5 e buonaventura cinque e mezzo castrovilli cinque e mezzo pulgar sei e mezzo perché ha fatto un gol bellissimo e iseric sei e mezzo liberi sei e mezzo blavice sei come e i subentrati come senza voto venuti senza voto cali con senza voto terracciano sei e il voto al mese brandelli cioè quello della fiorentina ex allenatore all'italia sei anzi ragazzi cesare brandelli si è appena dimesso dalla fiorentina si solo uno l'hanno esonerato penso e torna in panchina beppe iachini che che avevano esonerato e avevano fatto subentrare a brandelli ma adesso il contrario e andiamo con i voti del milano donna rumba cinque e mezzo da dove cinque e mezzo chier sette tomori sette ornandez sei e mezzo tonali sei che si sette se le makers sei e c'erano blue sette brandiaz sette ibraimovic sette e i subentrati cronici senza voto mai te senza voto casilleo 6 e ben a servizi e mezzo e mister pioli un bel sacco e lei ci può stare perché una partita in doppia rimonta contro la fiorentina che non è una squadra uno da sottovalutare perché ha battuto la juventus due perché ha una rosa buona che secondo me deve stare un po più in alto non merita di stare la però con le brutte postazioni è ovvio che sta sotto e partita da che non è andava sottovalutata infatti cioè non è stata noiosa anzi stata bellissima partita direi e niente ragazzi il video finisce qui un saluto da manfredi manfredo e niente alla prossima ciao